Questa volta cari amici voglio leggervi un testo del vaticanista Aldo Maria Valli sul suo blog Duc in Altum che mi è sembrato assolutamente pertinente e condivisibile. Valli si riferisce a un articolo pubblicato dal padre Antonio Spadaro sulla civiltà cattolica, la rivista dei Gesuiti molto vicina a Papa Francesco, in cui si riferisce la conversazione che il Papa ha avuto il 5 e l'8 settembre scorso con i Gesuiti del Mozambico e del Madagascar in occasione del suo viaggio apostolico in Africa. Il resoconto si intitola La sovranità del popolo di Dio e vi possiamo leggere le risposte che il Papa ha dato ai suoi confratelli durante l'incontro. A un certo punto rispondendo alla domanda del padre Benditongozzo che lo interpella sul problema delle sette protestanti e del proselitismo il Papa racconta Oggi ho sentito una certa amarezza quando ho concluso l'incontro con i giovani. Una signora mi ha avvicinato con un giovane e una giovane. Mi è stato detto che facevano parte di un movimento un po' fondamentalista. Lei mi ha detto in perfetto spagnolo, santità vengo dal Sudafrica, questo ragazzo era hindù e si è convertito al cattolicesimo, questa ragazza era anglicana e si è convertita al cattolicesimo, ma me lo ha detto in maniera trionfale come se avesse fatto una battuta di caccia con il trofeo. Mi sono sentito a disagio e le ho detto signora evangelizzazione sì, proselitismo no. E Valli giustamente commenta, ho letto e riletto ma c'è scritto proprio così, capite? Anziché abbracciare i due convertiti, fare festa con loro e benedirli, il Papa li ha praticamente sgridati e ha rimproverato la signora per averli aiutati a diventare cattolici. Nella sua risposta il Papa introduce la solita distinzione tra evangelizzazione e proselitismo, un discorso che ha fatto molte volte, ma al di là di questa distinzione sulla quale si può discutere, come può avere un atteggiamento simile nei confronti di chi è arrivato alla fede cattolica provenendo da un'altra esperienza religiosa. La signora di cui parla si sarà anche pronunciata in maniera trionfale, ma come biasimarla? Se ti trovi davanti al Papa e hai la possibilità di presentargli due giovani convertiti al cattolicesimo, un certo cedimento alla soddisfazione può essere più che comprensibile. E invece il Papa, dico il Papa, il capo visibile della Chiesa cattolica, se la prende a male. Ma nel dialogo con i confratelli gesuiti, continua Valli, c'è un altro punto che lascia più che perplessi. Si trova là dove il Papa, tuonando contro il clericalismo, e anche questa non è una novità, dice il clericalismo ha come diretta conseguenza la rigidità. Non avete mai visto giovani sacerdoti, tutti rigidi, in tonaca nera e cappello a forma del pianeta Saturno in testa? Ecco, dietro a tutto il rigido clericalismo ci sono seri problemi. Ho dovuto intervenire di recente in tre diocesi per problemi che poi si esprimevano in queste forme di rigidità che nascondevano squilibri e problemi morali. Una delle dimensioni del clericalismo è la fissazione morale esclusiva sul sesto comandamento. Una volta un gesuita, un grande gesuita, mi disse di stare attento nel dare la soluzione perché i peccati più gravi sono quelli che hanno una maggiore angelicità, orgoglio, arroganza, dominio, e i meno gravi sono quelli che hanno minore angelicità, quali la gola e la lussuria. Ci si concentra sul sesso e poi non si dà peso all'ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne. La Chiesa oggi ha bisogno di una profonda conversione su questo punto. D'altra parte i grandi pastori danno alla gente molta libertà. Il buon pastore sa condurre il suo greggio senza asservirlo a regole che lo mortificano. Il clericalismo invece porta all'ipocrisia anche nella vita religiosa. Fin qui il Papa e Valli osserva. Non voglio entrare nella questione riguardante quali peccati siano più gravi, se quelli legati alla sfera sessuale o quelli sociali, perché mi sembra un discorso che non porta da nessuna parte. Mi concentro invece sul parallelo che il Papa fa tra il clericale, inteso come arrampicatore e persona moralmente corrotta, e il rigido, esemplificato dalla figura del giovane prete in tonaca nera. E dico che qui siamo a un livello di insinuazione e di maldicenza del tutto inaccettabile. In base a che cosa il Papa sostiene che il giovane sacerdote che si veste da prete con tonaca e cappello è un rigido e come tale un clericale e una persona moralmente corrotta. Com'è possibile che un Papa si esprima in questo modo nei confronti di chi ha a cuore la propria identità di sacerdote? Discorsi come questi, difficilmente digeribili perfino se fatti al bar, non sono tollerabili. Mettiamoci nei panni, è il caso di dirlo, di un prete che per amore della propria identità si veste abitualmente da prete con tonaca e cappello. Il Papa in pratica lo addita come perverso e ipocrita, come persona dalla quale stare alla larga, ma come si permette? E che dire, continua Valli, del concetto secondo cui i grandi pastori danno alla gente molta libertà? Che significa? Libertà in che senso? Su che cosa si basa tale affermazione? Dove vuole arrivare? Perché i cattolici, che hanno il diritto di capire bene che cosa intende il Supremo Pastore in materia di fede e di dottrina, devono essere ormai nutriti in questo modo da un Papa che appare ostile a tutto ciò che è cattolico e produce ambiguità, maldicenze, insulti e allusioni cattive e ingiustificate. Per carità di patria, anzi di chiesa, non mi occupo di altri punti del dialogo del Papa con i Gesuiti. Mi chiedo soltanto fino a quando dovremmo sopportare questa svalutazione, questo immiserimento, questa sconcertante opera di progressivo degrado della figura papale e della sua autorità. Queste considerazioni che faccio mie non sono mie ma di Aldo Maria Valli sul suo blog Duc in Altum di cui vi consiglio la lettura. Grazie.